Buonasera! 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 Hai detto la parola che avevo messo nel preventivo! Fai vedere? Ho indovinato la potenza che è potenza esagerata! Ma quella potenza esagerata? Cioè voi avete detto buonasera e ne ho risposta! Va bene eh! Voi ti felice di burneva, chissà! Perché a volte ce l'hanno risposta! Sì sì, ce l'hanno risposta a volte che... Scusate, ma di dove siete? In dissenza! Cioè per... Ah, l'ha fallata, l'ha fallata! Ah, si sente l'accento! Si sente che stiamo tentando? No! Non si sente proprio che siete del nord? Come? Proprio del nord! Ma a nord di che a questo? A fragò! Sì sì sì! Vabbè nacque dei! Nacque dei! Nacque! Qui! Qua! No, a fragò la sud! A fragò la sud! Poi si trasferite! Dove? A fragò la nord! Wow! All'ultimo il qualsiasi mediante da qua! Eh sì sì! Tu fatele il colpo trochetto! Ma che? Sì sì! Sì sì! Ma a fragò non ci sto male! E infatti potremmo spingere tre giorni e tre notti! Non ci facciamo male! Non ci facciamo male! E' una cosa inglese! Eh ma comunque io non l'ho sempre fatto in banco! Io ho fatto un sacco di mestieri! Pensa che ho fatto pure la guida turistica! Toristica! Toristica! La guida turistica! Sì sì sì! E facevo la guida che accompagnavo le persone! Quello che fai qui! No! Un'altra cosa! Accompagnavo le persone nel giro per Napoli! Penso che una volta mi capitò una turista americana! Americano! 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 No! Afragolè! Afragolè! Amerafragolè! Sì sì! Comunque mi capitò questo turista! Lo accompagnavo in giro per Napoli! Allora ogni volta che l'ho portato all'officino avevo una cosa così dire! Diceva! Wow! Andammo alla piazza con le piscine! Noi ci piaccia con le piscine! Andammo a lavoro! Poi diceva! Wow! Com'è bello questo palazzo! Ma com'è bello! Eh! Cioè! Questo è il palazzo reale! Ma poi mi capitò? Sì sì! Mi capitò! Questo è il palazzo reale! Mamma mia! Wonderful! Ma quanto tempo è impiegato per questo velo? Allora diceva! Questo è impiegato! Mille anni! La signorina diceva! No! Noi in New York per 6 palazzo indicato! 10 anni! Diceva! Vabbè la signorina ma non mi offendete! Perché voi andate a me e ogni cosa lo fate più presto! E va bene! Ma andammo più avanti! Cioè! Ma voi vabbia le mavità le taggiano per al centro! Sì sì sì! Andammo più avanti! E arrivavano! Ma sei zitta! Arrivavo più avanti e arrivavo fuori al Castello dell'Uogo! Di più luogo? Arrivavo fuori al Castello dell'Uogo! Arrivavo là e la signorina mi diceva! Wow! Un'altra fu questo Castello! Ma quanto tempo è piacato per costruirlo! E dicevano le signorina questo Castello! Questo è impiegato 500 anni! La signorina diceva! Noi in America avevano il stesso Castello dell'Uogo! Impiegato 5 anni! Vabbè signorina mi è mortificata sempre! Allora io non sapevo cosa portare! Alla fine arrivavamo più avanti e accorto andammo indietro! Cioè mi giri perché ci sta lungomare liberato! Un maschino! Un maschino! Sì sì sì! Comunque! Andavamo ancora più avanti e arrivavamo fuori al Maschangioinico! Fuori al Maschangioinico! Arrivava la signorina e la signorina diceva! Mamma mia quanto è bello questo Castello! Ah questo è il Maschangioinico! E quanto tempo è piacato per costruirlo! Quanto tempo è piacato! Signorina, avrita! Se il passavere non ci stiamo! Ho chiuso il suo più da questo così! No! Tu rimane a chiudere! No! Magari da gestare! Comunque torniamo a fare i macchini! Giusefina! Alla ronca da darci! Lasta tu! Sì sì! Giusefina sei pronta con la segala? Lasta tu! Buono! Giuseppi! Giusefina! Giusefina! La mia da mi genere! Niente di me! Noi siamo insieme! Sì sì! Ci abbiamo... Ci abbiamo tutti sposati! Mi siete sposati? Sì sì! Quella è rimasta in forza di gravità! E' incinta! Sì sì sì! Gli abbia fatto il pasticcino fa! Ma no! Non è che c'è ladino pasticciotto! Sì sì! L'altro giorno l'ho fatto anche da Ginebraia! Ginebraia? Sì sì! Quella che ha visita le donne! Ah! Il ginecologo? Sì! Comunque appena l'ha visto ci ha fatto una bella coreografia sulla pancia! Appena l'avvistava a tamballare! Sì sì! Comunque tutto a posto! Il cottone di pellicano! Vedete! Il cottone di pellicano! Sì sì sì! Il liquido antibiotico! Sì sì! Comunque la Piacenza! La borsa! La borsa! La borsa! Vabbè! 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 Ha visto ci ha fatto venire una cipurra! Ma ti dice questa punta! Eh! Sì sì! Allora! Fatta a posto! Ma non è schifo questo gioco! Sì! Fatta a posto! Comunque adesso facciamo la catena! La catena! Non tirare la catena che se ne scende! Ma chi se ne scende? Se ne scende un moto di tira! Comunque Giusefina! Io con questa catena vado in Franche! Paranta fa non torna! Giusefì! Siamo in Franche! Giusefì guarda lò! Tu dure il raffè! A me non c'è un po' La sua è inferno! Guarda l'altro! Giusefì! Guarda l'altro! Giusefì! A sciarpe l'isè! Guarda l'altro! Guarda l'altro! I cazzottini ci vuoi! Ma sei zippo! E' zippo! E' zippo! Ma hai rovinato tutto il gioco! Sì! Ho rovinato! Giusefì da stai assentirando! Adesso tu devi stare assentito solo! Ma tu? Capisci? Guardami bene! Guardami nelle palle! Guarda bene! Guarda bene! Guarda viene! Guarda bene! Guarda bene la palla! non ho idea, non ho idea